Vino e prodotti tipici pugliesi sbarcano a Hong Kong e precisamente all'Italian Cuisine Asia Summit, un'importante vetrina per celebrare gli ottimi risultati raggiunti dalla cucina italiana negli ultimi 20 anni. E quest'anno si può dire che la nostra regione sarà la madrina della manifestazione. Saranno dunque 5 giorni dedicati interamente ai sapori e ai prodotti di casa nostra. 27 le aziende pugliesi che parteciperanno all'evento, 20 cantine, 7 aziende di olio extravergine d'oliva e prodotti tipici regionali. Ad organizzare l'iniziativa l'ITC Chefs con la collaborazione del Movimento Turismo del Vino Puglia. Dal 20 al 25 ottobre Hong Kong sarà la capitale dei prodotti tipici dei vini italiani, ma la Puglia è sponsor ufficiale, per cui il Movimento Turismo del Vino insieme agli assessorati all'agricoltura e al turismo porterà lì i prodotti insieme agli chef che insegneranno attraverso delle lezioni di cucina agli chef italiani in Hong Kong come si cucinano le orecchiette, come si prepara in maniera innovativa in questi mega ristoranti, mega forse è un termine sbagliato, in questi ristoranti di lusso, ma molto quotati sulla guida Michelin. Sono i nostri bravissimi italiani che risiedono ad Hong Kong che sono riusciti ad aprire tutti questi ristoranti stellati. Quindi sbarcheremo sì a Hong Kong, ma i nostri vini entreranno in delle case di lusso.